Un saluto ragazzi da Marchino Loiacono, bentornati Allora una piccola riflessione dopo Inter-Crotone, il giorno dopo Visto che abbiamo problemi comunque di entusiasmo e soprattutto di attacco Perché non riusciamo a fare più di un gol a partita Bene o male in difesa un gol a partita credo che si possa anche concedere E tutto sommato andiamo abbastanza bene Perché non tirare via Candreva, Icardi e Perisic Fargli fare un paio di partiti in panchina, anche due o tre E ripartire dall'entusiasmo e dalla voglia che è stata messa in campo ieri da Caramò Eder e Rafinha in un 4-3-3 Che comunque potrebbe portare qualcosa di meglio Tanto ragazzi, perdere o fare un punto a questo punto cambia poco, voglio dire Cambia veramente poco, bisogna ritrovare l'entusiasmo E bisogna far capire anche a quelli che pensano di essere titolari inamovibili Che non sono veramente nessuno, non sono nessuno Non hanno esperienza internazionale, non hanno vinto titoli Chiedono solamente aumenti e pensano di essere fenomeni Ma non sono fenomeni di niente Quindi secondo me potrebbero essere tranquillamente ben rimpiazzati dai tre che ho detto io Ciao a tutti, Forza Inter, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa che ho detto